Una lunghissima storia, ma non è che l'abbia, come si vuol dire, conquistata nel campo attivo, lo sapevo già da prima, ascoltare tutti e in particolare le minoranze, la vera democrazia è ascoltare le minoranze, questa è la democrazia, quando si ha il potere, si ha la forza di poter decidere, ma guai se non si ascoltano e a queste va dato il più ampio spazio, io dico che nella mia esperienza le minoranze mi hanno arricchito, perché mi hanno dato indicazioni o dato consigli che io ho seguito e venivano dalle minoranze, quindi è solo quella la forma della democrazia. Grazie a tutti.